Bene amici di androidblog.it, oggi proviamo la videocamera da 8 megapixel e la registrazione video del Sony Xperia T3 lo smartphone medio di gamma che riprende video in full HD proviamo subito un cambio di messa a fuoco che è ovviamente automatico e non è possibile fare in modo manuale con un tap sullo schermo facciamo anche un rapido pan e un controluce proviamo anche a zoomare su un'immagine ovviamente si tratta di zoom digitale piuttosto lento visto che bisogna fare con lo swipe con le due dita vedete zoom digitale fino a 4x in cui la qualità forse non è fra i migliori vi ricordo video in full HD registrato con Sony Xperia T3